Francesco Murlachi dove conosce e stringe a vicinzia con Gioacchino Rossini. Murlachi trascorre la maggior parte della sua vita a Dresda in qualità di Hofkamp e Meister contribuendo in modo determinante alla diffusione dell'opera italiana all'estero e tornando di tanto in tanto in Italia per la composizione e l'allestimento delle sue opere. Questa bucchia identità nella vita e nell'arte ne fa quasi un viaggiatore straniero a Perugia. È tuttavia nella città ombra che il suo corpo fu traslato dopo la morte proprio per essere sepolto in questa cattedrale. A Francesco Murlachi sono intitolati oggi a Perugia una piazza, un teatro e, doverosamente, il Conservatorio di Musica presso il quale si sono formati due musicisti che questa sera si alternano all'organo e presso il quale si è perfezionato il maestro in sanguato. Le note storico-critiche che potrete leggere nel programma di sala sono state redatte dalla professoressa Bianca Maria Pumana una delle massime esperte del compositore di Orugino cui va il nostro più sentito ringraziamento. È altrettanto doveroso far sapere al gentile pubblico presente che se questa sera avrà l'opportunità di ascoltare le note del preguia composto nel 1827 da Portlacchi per il dio e giusto Federico opposto sovrano di Sassonia è soltanto grazie alla passione del maestro Linzanguano che si è letteralmente innamorato della partitura manoscritta conservata verso la cattedrale di Perugia e ne ha curato la trascrizione. È stato dunque necessario l'arrivo a Perugia di musicista coreano perché nella città che a Francesco Murlachi diede i Natali tornassero a risuonare di note di questa splendida messa da Requiem in cui il compositore perugino ha dispiegato tutta la sua sapienza di compositore d'opera. La presentazione adesso viene ripetuta in maniera sintetica in lingua inglese per gli ospiti stranieri che sicuramente sono presenti a Perugia in questi giorni. Francesco Murlachi was born in Perugia on June 14, 1784 and was musicalmente trained first in Aples where he studied at the Conservatory of Aples and then in Pologna at the School of Stanislamatè where he met and befriended Giochino Rossini. Murlachi spent most of his life in Dresden as Ulf Carpe Paesce giving a crucial contribution to the diffusion of Italian opera abroad. Nonetheless, he returned to Italy from time to time for the composition and staging of his works. This novel identity and life and art made him almost a foreign traveler in Perugia. However, it was in Pologna in the city that his body was moved after his death to be buried in the Lulis Cathedral. Today, in Perugia's prayer and the theater and beautifully the Conservatory of Music are named after him. It is precisely at the stage conservatory in Francesco Murlachi that the two musicians who belong today at the organ have studied. Maestro Inza Juan himself completed his musical education at that same conservatory. The critical historical notes that you've been reading at May Hill have been written by Bianca Maria Brumana, one of the greatest experts of the Perugia Composso to whom our heartfelt thanks go. It is equally important to point out to the audience that tonight fills this magnificent cathedral that if this evening you will have the opportunity to listen to the notes of the Requiem proposed in 1827 by Murlachi for the pious and just pre-dechristous sovereign of Saxony it is only thanks to the passion of Maestro Inza Juan who literally fell in love with the manuscript score kept at the cathedral of Perugia and decided to transcribe it. In other words, only the arrival in Perugia of a Korean musician made it possible over the notes of this planet that we are going to resound in the city that gave birth to its composer. Grazie e buon concerto a tutti. Applaus of the of the Grazie a tutti. 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 a tutti.